Buongiorno, buongiorno a tutti amici e amici di AIM, un po' di riposo ci vuole, però durante questa pausa, prima dell'europeo, mi avete chiesto fai un video secondo te, chi vedi favorito a questo europeo, come lo vedi, cosa faremo, l'Italia come sta messa, stiamo in braccio a Cristo, stiamo in braccio a Cristo, siamo in braccio a Cristo, perché forse non avete visto, e lo spero che non l'abbiate vista a partire con la Turchia perché è stata di una bruttezza immane, però in quel quadro desolante, a dir poco osceno, Camarda in nazionale o non ti fiamo, Camarda neocampione d'Europa in 2017, serve come il pane a questa nazionale, serve un centro avanti, sperando che Scamacca sia ancora in buona condizione, ma una nota positiva in tutta questa marasma di schifo, marasma di noia, una nota positiva c'è, ovvero non abbiamo preso gol e se giocando male non prendiamo gol, figuratevi se giochiamo bene, cioè se azzecchiamo qualche passaggio, beh, io dico che se puntiamo tutto sulla difesa, come abbiamo sempre fatto quando abbiamo vinto le grandi manifestazioni, qualcosa di buono possiamo fare, insomma, no allo schifo di stè, cioè non ci mettiamo in destra di fare come il Milan, cioè di giocare tutti a Nanz e nessuno difende, cioè se facciamo la buona fase difensiva che le nazionali italiane hanno sempre fatto quando hanno vinto le grandi manifestazioni, forse qualcosa possiamo accocchiare, però le altre nazionali fanno paura, le altre nazionali fanno paura, la Germania sinceramente non mi ha finora entusiasmato, ho sbirciato qualche azione, qualche amichevole, ce la possiamo fare, se la dovessimo incontrare in uno sconto diretto, Francia, Inghilterra, Spagna, sono di un altro pianeta e non pensiamoci neppure, cioè io penso che quattro partite possiamo fare, tre del girone se non usciamo prima e le ottave di finale, più in là non possiamo andare, secondo me, perché visto la Spagna, visto la Francia, visto l'Inghilterra non abbiamo speranze, poi dipende se non esce qualche sorpresa, qualche nazionale che non ti aspetti, vedi Danimarca, vedi qualche nazionale materasso che azzecca l'europeo della vita, insomma tutto è possibile, ribadisco a me solo la Germania non mi ha impressionato, ma forse quelli si stanno nascondendo, forse è pretattica, però richiamare Toni Kroos che smette, Neuer a 37 anni e Ter Stegen vomita schifo, insomma non mi sembra proprio il massimo della corazziata tedesca, insomma forse l'unica nazionale messa peggio è proprio la nazionale del paese ospitante, però ribadisco può essere pretattica, può essere tutto, l'Italia ha una sola speranza, la fase difensiva, non prendere gol perché nelle amichevole oscena giocata contro la Turchia si è visto che non abbiamo preso gol, poi se prendiamo gol è finita, è finita, e ribadisco quello che ho detto, noi abbiamo una sola speranza che è la fase difensiva e non dobbiamo fare come il Milan di Stè, come il Milan di Stè, perché sennò siamo rovinati, per ciò che riguarda le convocazioni è uno schifo prendersi tutto il tempo, tutto il tempo di che? perché hai fatto delle convocazioni a schifo, quale tempo di che? quale tempo di che? mi prendo tutto il tempo, Camarda in nazionale o non passiamo gli ottavi? ma non solo, non solo, e questa è una nota a margine, se Camarda giocava in qualsiasi altro paese, in Spagna, in Inghilterra, in Francia, se era Camarda giocava nella nazionale maggiore e nel Paris Saint Germain nella titolare, vergogniamoci, vergogniamoci, ma non solo, noi dobbiamo sperare che la difesa regga, perché sennò siamo finiti, per il resto dobbiamo vedere che giocatori si metteranno in mostra in questo europeo, se Morata fare un buon europeo per la Spagna sono finiti, perché anche loro a parte Morata, però loro hanno Gabbi, cioè Gabbi non c'è per infortunio, hanno Yamal, cioè la Spagna sta messa quasi come noi, cioè noi, ribadisco quello che ho detto in un video, ci giochiamo tutto all'ultima, preparatevi, preparatevi già mentalmente, noi ci giochiamo tutto con la Croazia o la Croazia si gioca tutto con noi, quindi ribadisco, l'ultima partita del 24 giugno, segnatevelo, sarà decisiva, perché vista l'amichevole, io penso che pareggiamo con l'Albania, la Spagna ci trita e ci giochiamo tutto all'ultima, segnatevelo, e ribadisco, grido forte e chiaro, la nostra unica speranza è la fase difensiva, in chiusura di questo video voglio fare calmare i tifosi milanisti, Allegri non arriva, la nostra disperazione, la nostra retrocessione sarà quell'indegno di Fonseca, preparatevi, preparatevi, per ciò che riguarda lo schifo di Tudor, con lo titolo Ziano Speranza, perché quello un giocatore voleva, gliel'ha allevato, che era camata, quella che ha detto vaffanculo, tanto semplice e preciso, cioè con quel morto di fame di rotito, non si può trattare, come ha detto camata, la stessa cosa voglio dire un messaggio ai napoletani, non rompete il cazzo, perché io Antonio Conte non lo volevo, quindi non dire rosicate milanisti, forse non avete capito cari tifosi del Napoli, che il vostro presidente ha fatto all in, come si fa a poker, o vince o fallisce, perché con Antonio Conte quella è la strada, o vince qualcosa o fallisce e deve vendere il Napoli, quindi piuttosto che quello schifo, mi tengo Fonseca, ciao a tutti.